Via le auto parcheggiate su piazza Plebiscito è partita oggi l'isola pedonale nel centro storico del Tricolle, così come voluto dall'amministrazione Franza. Da questa mattina sono spuntate le fioriere a delimitare la piazza dove non sarà più possibile sostare. Come aveva già annunciato il consigliere comunale con delega alle attività produttive Andrea Melito, in seguito ad un incontro con i commercianti arianesi, resterà consentito il transito su via Mancini e su via d'Afflitto, dove resta in vigore la zona a traffico limitato dalle 18.30 alle 2 di notte. Sulla nuova isola pedonale sono già puntate le telecamere della videosorveglianza comunale per dissuadere soprattutto i giovani dal commettere atti vandalici nei confronti delle fioriere che delimitano il perimetro entro cui non è possibile transitare in auto. Addio quindi al parcheggio selvaggio in piazza Plebiscito con macchine in seconda e terza fila. Sono pochi infatti i parcheggi rimasti salvi dalle nuove disposizioni e sono dedicati ai disabili, alle donne incinte, allo scarico e carico delle merci e per chi deve recarsi in farmacia.